Oggi si sappa, siccome c'è stata la pioggia, altri giorni il terreno si è inumidito, quindi si ritenga una smossa, si asciuga un po', e oggi, sempre oggi, il pomeriggio dovrei seminare pomodori, anzi vorrei accompaggiare le piantine, che sono più ricoglioso, poi quello per seminare e metto dopo la seme. Allora, questa è una zappa, come ci dà una raschiata, perché questa la doverete l'altro giorno, questa doverete, metto qui, ora guardate, questa zappa, è fatica, è un'arte, è fatica, perché quando ti regalazzano così, non è un'arte, la doverete, questo si asciuga il pomeriggio è meglio, se vengo il pomeriggio è meglio, molto meglio, perché si asciuga un po', facciamo anche questa che poi si cerca, eh sì, pepe che ne è fatica, la luce che la sappa, se vengo aspetta che si asciuga, è tosta, è tosta, si senta, perché inizia, non sembra, poi mani mani che affondi, il lavoro prosegue, si sente la fatica.